Ciao, io sono Luca di Approccialla.it e in questo video parleremo di come evitare che qualcuno ti rubi la ragazza. Per iniziare, per chi non mi conoscesse, sono il fondatore di Approccialla.it, un'azienda nel settore del miglioramento sentimentale che dal 2018 ha fatto ottenere a centinaia di uomini risultati come l'andrà a letto con nuove ragazze o entrare in una relazione in coppia. Tutto questo viene fatto tramite corsi a vivo, videocorsi e consulenze che sono a pagamento. Quindi per chi pensava di cambiare la propria vita gratis, consiglio di abbandonare questo video. Quindi parliamo di come evitare che qualcuno ti rubi la ragazza. In questo caso parlo di una tua ragazza nel momento in cui sei in una relazione in coppia, però in realtà i principi si applicano nel momento in cui stai frequentando una ragazza, non ci sei ancora andato a letto, nel momento in cui sei in una tromba amicizia. Sono principi che comunque sono universali, però il video sarà precisamente dedicato nel momento in cui sei con una ragazza, nel senso che sei fidanzato. Quindi questo video da Dash da una domanda che ho ricevuto un po' di tempo fa, non ho la minima idea di chi fosse la persona che ha fatto questa domanda, delle volte mi appunto delle domande che, non so anche se fosse una domanda che ho ricevuto in una diretta per delle volte, mi appunto le domande che ricevo nelle dirette, se l'argomento magari è un po' più interessante, richiede una risposta un po' più lunga, me lo appunto e poi prima o poi ci faccio un video. Quindi potrebbe essere che fosse una proposta a video di un anno fa, due anni fa, un mese fa, non lo so, non ho la minima idea. Quindi andiamo a leggere la domanda di questa persona, che non so chi sia, magari guarderà questo video, non lo so. Quindi questa persona chiede, C'è Luca, da vergine mi sono imposto di migliorarmi, ma non credo nelle relazioni. Penso che, anche se dovessi trovare qualcuna con cui fidanzarmi, scatterebbe in me il meccanismo di difesa, per cui continuerei a provarci con gli altri cercando di tenermi qualcuna come riserva, nel caso in cui la mia lei trovasse qualcun altro, visto che tutti ci provano con le ragazze. Sono sicuro che questo meccanismo di difesa dipenda da una profonda insicurezza che ho. Il fine è evitare di stare male se lei mi lascia, rimanendo senza alternative. Per un calcolo probabilistico, qualcuno più capace c'è di sicuro, per cui sono questioni di tempo, prima che la tua ragazza venga conquistata da un altro. Cosa ne pensi? È un modo sbagliato di ragionare? Quindi, partiamo dal discorso che sì, è un modo sbagliato ovviamente di ragionare, ovviamente non è magari così ovvio, però innanzitutto, in realtà non è un modo di pensare questo, questo è immaginare, perché partiamo con questo concetto che se tu non hai dati su cui pensare, stai immaginando, che è diverso. La maggior parte delle persone in realtà non pensano, la maggior parte delle persone immaginano, perché non hanno esperienza, non sanno di cosa stanno parlando. In questo caso, chi ha fatto la domanda, dice appunto, da vergine penso questa cosa qua, e da vergine, quindi non hai risultati con le donne, quindi per definizione non stai pensando, stai immaginando, e immaginando immagini garantito o sbagliato, non puoi immaginare giusto, nei momenti in cui non hai esperienza e risultati. Quindi questa qua è la prima cosa. Poi la parte dove dici, poi ripeto, non so chi abbia fatto questa domanda, la parte dove dice, non credo nelle relazioni, però essendo vergine, ripeto, hai informazioni sbagliate in testa, non avendo risultati, veramente bisogna capire questa cosa, tante persone non capiscono perché ragionano sempre per opinioni, perché viviamo in un mondo dove la gente parla sempre di opinioni. Se le persone parlassero soltanto delle cose sulle quali hanno reale esperienza, e hanno già l'esperienza e i risultati, per esempio in questo settore, nel settore miglioramento sentimentale, tanti hanno esperienza nel prendere pali, uno dei formatori da cui avevo imparato alcune cose, diceva, ma tu hai esperienza di successo in questa cosa, oppure hai esperienza nel farla male? Perché è un'esperienza diversa, perché ci sono persone che magari, non so, sono in questo settore, magari da 5 anni, 6 anni, e sono 6 anni che prendono pali, e c'è magari chi inizia da un anno e ha già risultati in un anno, e magari se si confronta con uno che ha esperienza da 6 anni, uno dice, io sono in questo settore da 6 anni, approccio ragazze da 6 anni, e magari uno, quello che ha iniziato da un anno, magari si spaventa, questo qua ha un sacco di esperienza, e però un conto è un'esperienza di prendere pali, quindi penso si sia capito il concetto, comunque, non credo nelle relazioni, però se uno è vergine, se uno non ha risultati con le donne, non credi nelle relazioni, ma tanto c'è, quello che pensi è sbagliato, quindi non c'è, poi a parte non è una religione, non c'è da credere nelle relazioni, bisogna comprendere come funzionano le relazioni, come funzionano le dinamiche di coppia, perché sono diverse dalle dinamiche dell'approccio fino al sesso, ci sono delle dinamiche che ti portano dall'approccio fino al sesso, nel momento in cui entri in una relazione di coppia, tutt'altra le dinamiche per vivere una relazione di coppia bene, quindi questa qua era una delle questioni, poi andiamo avanti sempre con questa domanda, quindi la sto spezzettando per tutte le cose che mi vengono in mente, poi la parte dove dice che poi spenso che mi dovrei tenere sempre una di riserva, in caso la mia lei mi lascia, no, non per forza, poi se vuoi creare una relazione aperta dove sei fidanzato con diverse ragazze, è una cosa che esiste, si può fare, però se vuoi avere una relazione di coppia 1 a 1 con una ragazza, crei una relazione di coppia che è di successo, come spiegato nella guida anticonvenzionale per relazioni di coppia di successo, che tanto è chiusa, quindi non si può acquistare, quindi non so neanche perché lo sto dicendo, quanto meno alla data in cui sto filmando il video è chiusa, però dovrebbe essere chiusa anche alla data in cui esce il video, quindi nel momento in cui sviluppi competenze solide con le ragazze, non è che ti devi tenere le ragazze di scorta e di riserva, perché anche nel caso in cui la relazione finisce, hai competenze solide, ti puoi trovare una ragazza nel giro di due secondi, non di due secondi, però nel giro di una settimana sei tranquillamente in grado di andare a letto con una nuova ragazza, nel momento in cui ci va letto con una ragazza, di base, da lì come ho detto, come dico sempre, si aprono poi le due porte, o la relazione di coppia, oppure la tua amicizia, quindi nel momento in cui una competenza solide, non ha paura di essere lasciato, perché sa come trovarsene un'altra, e di base nel momento in cui tu ti migliori costantemente, noterai che con il passare del tempo, anche la qualità delle ragazze cresce costantemente, la qualità intendo, dipende da quali sono i tuoi canoni di qualità, quindi intendo sia bellezza, sia fisica, estetica, sia anche la parte caratteriale, quindi effettivamente una ragazza, per come la vuoi te, noterai che con il tempo, sono sempre migliori, se però ti migliori costantemente, poi la questione dove dice questa persona, ci provano tutti con le donne, no, ci provano tutti in maniera da disagiati, specialmente in Italia, la maggior parte degli uomini, sono semplicemente una massa di disagiati, disadattati sociali, che non lo sanno come si fa con le donne, anche perché scelgono di non formarsi, di non imparare queste cose, e sono una massa di disagiati, fondamentalmente, io ho visto scene grottesche, in Duomo Milano, e ho passato la mia vita, gli ultimi sei anni della mia vita, adesso non vivo più in Italia, però da quando iniziato a interessarmi, alle dinamiche uomo-donna, dal 2015, ho iniziato effettivamente a approcciare ragazze nel 2015, praticamente tutti i giorni, era giugno, perché ho iniziato effettivamente costantemente, frequentemente, da agosto 2015, da agosto 2015, fino poi a 2019, praticamente sempre, quasi tutti i giorni, poi dopo ho iniziato a focalizzarmi più su insegnare, quindi uscivo di meno per me stesso, e mettevo più, diciamo, il tempo, però non è questo il discorso passato, dal 2015 al 2021, praticamente fino a maggio 2021, gli ultimi sei anni della mia vita in Piazza Duomo Milano, di scene ne ho viste, dovrebbero farmi una statua, per chi sa come è fatta la Piazza Duomo Milano, c'è la statua del cavallo, al centro della piazza dovrebbero fare la statua con me, non con la statua del cavallo, quindi da quanto tempo ho passato in quella piazza, ho visto di tutto, gente che approccia in maniera assolutamente sbagliata, la cosa non è aiutata anche dagli altri formatori in questo settore, che insegnano modi di approcciare sbagliati, per esempio di piazzarsi davanti a tutti i costi, cercare di fermare la ragazza a tutti i costi, ma non volevo neanche parlare di questo, ho visto gente che non conosce questo settore, che però fa quello che si chiama catcalling, che ho fatto anche un video su questa cosa, dove l'ho spiegato, il video si intitola approcciare per strada uguale catcalling, punto di domanda, vantelo a recuperare questo video se non l'hai guardato, e no, approcciare stata correttamente non è il catcalling, che se quello del catcalling sarebbe tutte le molestie per strada, i fischi, i schiamazzi, tutte queste cagate qua, e le fanno la maggior parte degli uomini, e quello che volevo dire, allora che in Duomo a Milano delle volte fanno gli eventi dove montano il palco, per magari dei concerti o per degli eventi sportivi, e mi ricordo una volta che ero in Duomo, era tipo forse una domenica, e stavano smontando un palco di qualche evento, e c'erano gli operai coglioni, che tutte le volte passavano delle ragazze in gruppo, delle belle ragazze, gli facevano, e io volevo andare lì, e gli volevo dire, ma siete coglioni? Siete coglioni? Perché sì, sono coglioni, e come loro, tantissime altre persone fanno cagate di questo tipo, quindi, le ragazze sono approcciate, ci provano tutti? No, sì, ci provano tutti, nella maniera sbagliata, nella maniera da disagiati, infatti, quando approcci una ragazza per strada correttamente, quando si agli inizi, lo senti anche molto spesso, la frase, che pronuncio le ragazze, ti dicono, complimenti, perché non mi era mai successo, complimenti per il coraggio, perché non mi era mai successo, non è che non l'è mai successo, l'è successo più o meno dieci volte in quel giorno, l'è successo nove volte a disagiati, e ci siete che si approcci correttamente, fatto nel modo giusto, gli approcci che la ragazza riceve correttamente, nell'arco di una vita, si contano al massimo sulle dita di due mani, poi, sempre andando avanti con alcune cose in questa domanda, nel momento in cui costruisci una relazione di coppia, di successo, la ragazza non si trova nessun altro, nel momento in cui una ragazza sta troppo bene con te, non ha motivo di andare con altre persone, in punto che la maggior parte delle coppie, la maggior parte di uomini, non riescono a creare una relazione di coppia di successo, perché non sanno come si crea una relazione di coppia di successo, nel momento in cui la ragazza non è appagata, sia dal punto di vista sentientale, che dal punto di vista sessuale, è certo che andrà con qualcun altro, ma non è che è andata con qualcun altro, ha tradito, ho fatto anche già un video su questo argomento, che si chiama, se non sbaglio, perché le donne tradiscono, e non c'è che le tradiscono, è che prima te la sei persa tu, poi il primo pirla che passava, e molte volte quel pirla sono io, e se la porta via, ma non è che lei ti ha tradito, è che te la sei persa prima te, perché non hai dato alla ragazza quello effettivamente di cui aveva bisogno, quindi sia appagamento sentientale, sia appagamento sessuale, nel momento in cui costruisci una relazione di coppia felice, che funziona effettivamente bene, la ragazza non va con nessun altro, ok, quindi, questo era giusto, non mi ricordo, uno dei punti che aveva chiesto la persona in questa domanda, poi sempre andando avanti con la domanda, il fine, quindi riprendo un passaggio della domanda, il fine è evitare di stare male, se lei mi lascia, rimanendo senza alternative, ecco perché non bisogna finanziarsi subito, che è il discorso che ho fatto tantissime volte, lo faccio fin dagli inizi, fin dai primi in video, questo discorso, tanti mi ascoltano, ancora di più, però tante persone in più non mi ascoltano, e si fanno male, parlo di miei studenti, quindi persone che poi effettivamente arrivano ad andare a letto con ragazze, tanti commettono l'errore di subito finanziarsi con la prima, nel momento in cui ti finanzi subito con la prima, o al massimo con la seconda, e non hai sviluppato nessun tipo di abilità solide, sviluppi abilità solide, quando v'hai letto con un po' più di ragazze, che non è 50 ragazze, però almeno un paio di ragazzi al mese, per tre mesi in fila, in modo che dimostri a te stesso che hai capito come si fa, che hai delle competenze solide, perché con la prima ragazza in cui andrai letto, da approcci, non con la prima ragazza in generale, intendo che la prima ragazza dal momento in cui hai deciso di imparare queste abilità, e quindi di solito sono ragazze da approcci di giorno per strada, in discoteca, magari dagli approcci online, la prima ragazza effettivamente ti sei conquistato, specialmente da un approccio al vivo, che sia di giorno per strada o in discoteca, ti sembrerà che lei sia speciale, no, è che non hai mai avuto effettivamente approvazione dal genere femminile, quindi per una delle prime volte che ricevi approvazione dal genere femminile, ti senti bene, lo scambi per innamoramento, no, è semplicemente bisogno, discorsi che è tanto assolutamente inutile fare in questo video, però proprio per questo non bisogna fermarsi alla prima o alla seconda, tanti gli dicono non fermarti da prima, quindi si fermano alla seconda, però neanche alla seconda e neanche alla terza, quindi un po' di ragazze, non so, 6-7-8 ragazze, nel giro di 3 mesi, 2 mesi, 4 mesi, quello che è, io direi una decina di ragazze, in totale, in un periodo di tempo di qualche mese, per capire effettivamente come si fa, per dimostrare a te stesso che hai delle competenze solde, nel momento in cui hai delle competenze solde, non hai più paura che la ragazza ti lasci, nel momento in cui la relazione dovesse finire, sei tranquillamente in grado di trovarti in un'altra in qualsiasi momento, poi sempre passaggio successivo, sempre nella domanda, dove questa persona dice, per un calcolo probabilistico, qualcuno più capace c'è di sicuro, per cui è solo questione di tempo, prima che la tua ragazza venga conquistata da un altro, allora, come ho detto, è molto improbabile in realtà questa cosa, nel momento in cui hai padronanza completa di quelle che sono le dinamiche fra uomo e donna, lo dico in tantissimi video, anche alcuni miei studenti, ci sono alcune testimonianze, alcune video testimonianze di questa cosa, che io tante volte dicono i video, che nel momento in cui io tante volte, dopo vado a letto con una ragazza, tante dicono sempre più le stesse frasi, non avevo mai fatto sesso con qualcuno al primo appuntento, non mi ero mai aperta con qualcuno così velocemente, non me l'aspettavo di far sesso così velocemente, non mi aspetta una cosa che era l'altra, non mi ero mai aperta con qualcuno così velocemente, non avevo mai fatto sesso con uno sconosciuto, in realtà non vuol dire niente, comunque, molto spesso, sono sempre queste qua, più le frasi che sento, dopo essere stato letto con una ragazza, e alcuni miei studenti, effetti riscontrano questa stessa cosa, e ci sono alcune video testimonianze, c'è un ragazzo che magari guarderà anche questo video, e si chiama, tipo testimonianza, Matteo si chiama se non sbaglio, e c'è una video testimonianza, puoi andare a recuperare su YouTube, anche lui diceva che gli era successa la stessa cosa, e poi fa ridere quando ti succede, che aveva detto una ragazza, e senti queste frasi, perché nel momento in cui, il concetto è che, nel momento in cui tu sei capace, con le donne, nel momento in cui hai padronanza, delle dinamiche fra uomo e donna, sei sempre tu l'eccezione, quindi per quello in realtà, è improbabile che poi ci sia qualcuno, che è più capace di te, nel momento in cui hai padronanza, delle dinamiche uomo e donna, sei sempre te l'eccezione, e come ho detto, nel momento in cui, no in realtà non è che l'ho già detto, però, nel momento in cui crei una relazione di coppia, che è di successo, il tempo, che passi insieme alla ragazza, nel corso dei mesi o degli anni, va a rafforzare il valore, che hai agli occhi della ragazza, quindi, nel momento in cui, se ti confronti, diciamo a freddo, con non so, con una persona che ha uno status, un VIP, non lo so, sei in una discoteca, e ci vai a provare con una ragazza, e poi dopo di te, ci va a provare, non so, Leonardo Di Caprio, ok, va bene, non so se si può vincere, come competizione, però nel momento in cui, magari non so, la tua ragazza, hai creato una relazione di coppia, di successo, come spiegato nella guida sulle relazioni, e ci hai passato insieme magari, sei mesi, un anno, due anni, quello che è, e poi arriva Leonardo Di Caprio, o qualsiasi altro attore famoso, o qualsiasi persona che abbia uno status, lì non te la può portare via, ok, perché, uno, hai creato una relazione di coppia di successo, in più c'è tutto quanto il trascorso a livello di tempo, il trascorso a livello di tempo, crea un sacco di valore in te, agli occhi della ragazza, che è inscalfibile anche da una persona, che ha uno status, o che è un attore famoso, o qualsiasi cosa sia, quindi in conclusione, l'ultima parte della domanda, dove chiede, che ne pensi, o modo sbagliato di ragionare, sì, poiché non ti produce risultati, se quello che hai in testa, non ti produce risultati, è perché sono informazioni sbagliate, quindi bisogna mettere in testa, informazioni nuove, che puoi metterti in testa, grazie a qualcuno dei miei percorsi formativi, ci sono tutte le informazioni, cliccando sul primo link in descrizione, oppure andando sul mio sito, www.approcciala.it, se hai domande, dubbi, non sai quali dei miei percorsi formativi, può fare al caso tuo, contatta un membro del mio team di esperti, trovi tutti i riferimenti in descrizione, cioè sia il numero di telefono gratuito, per parlare a voce con qualcuno del mio team, oppure il contatto whatsapp, per parlare via messaggio. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Alla prossimo video.